mmmm te siglone show vautuno cliccate la sigla in descrizione iscrivetevi al canale mettete più mi piace condividete e commentate te siglone show vautuno se se non cliccate la sigla in descrizione chiamo lo spot di tabù per due ore consettutive cliccate la sigla in descrizione e sarete premiati iscrivetevi al canale grazie te siglone show vautuno salve a tutti amici iscritti e benvenuti nel te siglone show vautuno oggi andiamo a parlare di un cartone pre scolare che andavano in onda sul cartonito e lo guardavo nel 2016 quindi buona visione che oggi andiamo a recensire un cartone animato coreano poi ci sarà anche un altro cartone animato coreano da recensire esatto quindi benvenuti dopo poloro volevamo recensire super wins sì sì avete capito bene un altro cartone animato di cartonito poi ne parleremo sempre un altro quindi oggi parleremo di super wins super wins è un cartone animato che parlano degli aeroplani che sono diventati robot super wins sì gli aerei più drogati che adesso non seguo mai questo cartone animato mai ancora in corso perché del 2013 e sì con 144 episodi sei stagioni e gli episodi durano dodici minuti è stato trasmesso in italia su cartonito e day junior e frisbee a partire dalla stessa stagione perché prima i super wins andavano in onda su cartonito e poi è andata in onda su frisbee hanno presso i diritti la media sette poi l'hanno mandato su discovery one air bros perché i super wins fanno cagare si fanno cagare i super wins e l'hanno pensato di mandarlo in onda su frisbee perché è un canale un po' bruttino trasmesso in italia nel 2016 e anche in piattaforma streaming netflix in tv di coach media ok super i super wins parlano di questi aerei che vanno e dice a jumbo jumbo questo signore qui poi hanno cambiato anche personaggio quello che lui jet è un si è il protagonista ma è rosso e bianco lui è il fa consegno ai bambini dei pacchi e che cosa vogliono farci e che cosa loro questi aerei spediscono in tutto il mondo e poi chiama un altro aeroplano per risolvere il problema al bambino e a jet che visitano tutto il mondo anche c'è poi nelle successive stagioni c'era anche la nipotina di jimbo e c'erano vabbè jimbo è sempre il migliore poi nelle altre stagioni fanno schifo e fanno veramente cagare che ormai super wins li danno ancora in onda li danno sempre di sera ma alcuni li amano i super wins ma per scopi vandalici e altri no poi assieme a jet c'è drizzy si è un cartonemato coreano un altro un altro coreano e sta aeroplano rosa che è la fidanzata di jet si poi c'è anche doni e sto un boba giustatuto alla pratica e sto aeroplano giallo vabbè poi c'è anche jerome jerome e sto tizio blu vabbè poi ci sono anche altri aerei c'è mira paul bello bello vabbè grande albert e tanti altri e poi ci sono anche altri personaggi ok e poi negli altri successivi episodi di stagioni di super wins hanno fatto anche la mission teams dove collaborano a caso la super charge poi super pets non si sa cosa significa e anche super wins i guardiani del mondo lo danno su frisbee va bene super wins sono molto strani ma questo cartone animato è davvero proprio strano c'è sti aerei che drogano con i bambini ma poi chiedono all'aiuto a gimbo per mettere un aeroplano a caso come odisi doni jerome o qualcun altro e lo salvano i bambini perché i bambini hanno altri problemi super wins è un canottone drogato parlano degli aerei senza senso jet è inutile come protagonista o dei personaggi della serie riconosco a memoria questi personaggi perché sono inutili super wins è un cartone animato inutile di cartonito che adesso è di frisbee inutilissimo capito super wins inutilissimo va bene ragazzi questo è durato abbastanza per fortuna ma super wins è un cartone pessimo ma non ha molto talento vabbè balleremo di un altro cartone molto bello rispetto ai super wins e quindi super wins super wins super wins vabbè Grazie.